Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Dragon Ball Z a Budokai TenCache 4 Vi voglio ricordare la serie moddata del Budokai TenCache 3 per PS2 Ma prima di iniziare vi invito fin da subito a lasciare un bel like E vi voglio ricordare che sul canale trovate all'interno della playlist dedicata L'intera serie fino a questo episodio Con sottotitoli in italiano aggiunti da me E altri in realtà presenti all'interno di qualche episodio della storia Ma per il resto è l'unico canale questo qui dove trovate l'intera storia Subbata in italiano Detto questo ragazzi spolliciate ancora una volta E a sto giro affronteremo Kefla con Goku Ultraistinto Quindi preparatevi perché ci lanciamo nel match Mamma mia ragazzi Ma quanto fiero sei Goku Ultraistinto Ma quanto fiero sei Ma tra l'altro ragazzi non so se state vedendo La bellezza dei modelli Perché sì finalmente sono passato alle versioni recentissime Tra virgolette della beta Che purtroppo No 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 Cosa fai Kefla? Io Che purtroppo non contengono più i sottotitoli già in italiano all'interno della storia Quindi sì quelli che leggete con le bande nere Tutti il resto li ho aggiunti io E tra l'altro ho dovuto aggiungere ragazzi le bande nere Come un tempo Come tempo fa Insomma come anni fa Perché altrimenti si vedrebbero i sottotitoli sotto Ok? E non capireste nulla Va bene proseguiamo Visto che mi sta dando l'opportunità Quindi vamos Visto che mi sta dando l'opportunità Sfiziosisti ma sta cosa che tra l'altro Kefla sbaglia il nome dell'ultraistinto Bellissimo bellissimo È tutto così bello Kefla Vado faccio ricordare io un attimo il nome dell'ultraistinto Eh già Eh già Eh già 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 Tra l'altro questa mo Che cavolo però Kefla maledetta Sapete che gli vorrei fare ragazzi a Kefla La La Kamehameha Ultraistinto Insomma la Kamehameha istintiva Quella lì sarebbe assolutamente da fare Allora tra l'altro cerchiamo comunque di Schiattarla Perché io vedo che questa qui sta sempre a livello di salute messa benissimo E noi siamo sempre messi malissimo Quindi facciamo attenzione Eh Kefla Un po' di studio qui No 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 Meno male Meno male Non ci voglio credere Ok dai allontaniamola un attimo E io vorrei vedere Ragazzi non mi carica più Laura Cioè me la carica lentissima Ok adesso si però me l'ha caricata lentissima poco fa raga Stralenta Ah sapete che vi dico però Non la lanciamo la Suprema per il momento Non la lanciamo proviamo ad andare ancora Mettiamola sotto le botte Ecco mettiamola sotto le botte Infatti mi da il proseguo Vai proseguiamo immediatamente Ok Flatte forse non hai capito qua Se ne è resa conto che sta contro Gokul 3 stinto questa Se ne è resa conto che sta giocando Sta lottando in realtà Contro la leggenda Contro il guerriero leggendario Che ha addirittura Trasceso i limiti Trasceso e diventato divino Manco le divinità riescono a raggiungere un livello 6 Kefla dove vai? Cioè questa si è caricata davvero Non ci voglio credere Kefla E allora mi metto pure a Max Power va Vediamo fra i due chi avrà la meglio Max Power Sappi che sei da chiappo in combo qua Kefla Te faccio male Kefla qua te faccio malissimo Eh già Eh già Kefla Eh già Te faccio di un male Che tu non hai idea Proprio Te faccio di un male Che tu non hai idea Vediamo se la chiappiamo Mamma mia se la chiappo Sì Toma Marco Quanto Noi, non è stato un po' di più! Non è vero che il movimento, non è un po' di più! Non è ancora così, non è ancora così, son goc! Ah, è stato un po' di più attenzione. Mi ha fatto un po' di più. Poi, ho fatto un po' di power-up, ma non posso farci me in questa contrazione. Non posso farci me in questo caso. Non mi piace. Ora, ora, ti prendi a te. Ti prendi. Andiamo, Son Goku! Viece viece Kefla viece viece Seee Kefla sono imbattibile io Fa sta roba Ah finalmente Laura mi carica di nuovo per bene Oh questa si è ricaricata di nuovo full vita raga Raga non è possibile Non è possibile E io in realtà a me non hanno caricato mai full vita raga Io non sono ripartito Ok Andiamo se la becchiamo Vai Kefla Kefla Ma tu te stai rendendo conto che stai a gioca Ma tu te ne stai Ma ti stai rendendo conto Quezza secondo me non l'ha capito Non l'ha capito Non l'ha capito Kefla Non l'ha minimamente capito Vai Goku Wai Bello Eh insomma Proprio così però Kefla 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 Si è un attimo arrabbiata raga Mi pare che si sia un attimo arrabbiata Ragazzi si è palesemente arrabbiata Non ci credo Ragazzi si è palesemente arrabbiata Kefla Oh Continuiamo No 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 E' un'altra cosa! Mamma mia Mamma mia che episodio Che episodio incredibile Che episodio incredibile ragazzi Voglio uno sfracello di like In questo momento attuale Per un episodio a dir poco Clamoroso Clamoroso Ragazzi io vi ricordo Che trovate la serie completa subita Qui sul canale nella playlist Scorso episodio quindi domenica scorsa Uscito lo scontro fra Goku Ultraistinto e Jiren E settimana prossima probabilmente Mi sa che ci sarà lo scontro fra Vegeta e Toppo Una roba del genere Signori mi piace, commenti, iscrivetevi Condividete e noi ci vediamo appuntamento Come al solito Ad un prossimo video